Papaveri rossi, papaveri rossi, papaveri rossi, olivi, olivi e olivi, un cielo sicuro che sembra proteggerli, un viottolo. Il grande maestro non faceva fiorire i suoi papaveri rossi, erano e sono chiusi. Michelangelo apre la vita alle sue creature, indica un sentiero nell'aria terra delle puglie, tutto si fonde, la via è anch'essa protagonista pur tracciata con semplicità, amore e umiltà e porta lo spettatore nella dimensione fatata del bello e dell'arte. Michelangelo visse tante lunghe notti con il grande maestro. Ne divenne non solo spettatore ed ammiratore, ma anche compagno. Te l'ha dedicata tutto, a tutti e a tutte, dedicata a chi vive con gioia, responsabilità, chi crede nel suo futuro e accompagna il vicino alla gioia.